allora buongiorno siamo qui in un posto magnifico a lussemburgo in una giornata di sole e siamo per vederci ancora una volta con farad finance forum 2021 questa volta il farad finance forum un'idea magnifica che ha avuto nel tempo marco caldana e che continua a darci tratta dei temi interessantissimi e in questo caso si parla di green ocean e ovviamente quando si parla dell'oceano e quando si parla del verde si pensa molto anche al problema relativo all'inquinamento inquinamento sostenibilità e finanza sono i temi di cui si parla durante questo incontro che si sta svolgendo nell'emiciclo che viene utilizzato anche per le unioni del parlamento europeo e questo è talmente interessante perché effettivamente le unioni del parlamento europeo vanno anche a legiferare su quella che potrà essere la nuova legislazione per consentire una vita migliore in un universo in un mondo migliore ovviamente dobbiamo pensare che non si può andare avanti con ed unicamente con delle leggi che ci impongano o comunque ci consiglino di andare in una direzione più verde leggevo fra i commenti oggi qualcuno che diceva ma è sufficiente dare una mano di verde e siamo a quel punto compliance con la nuova legislazione no non è così io credo invece che si debba andare alle fondamenta ovvero sia far comprendere a tutti alle persone anziane come sono io al presente perciò ai giovani che hanno fra i 40 e i 50 anni ma soprattutto ai giovanissimi quello che significa vivere in un mondo più pulito ovviamente anche la finanza ha un suo compito ma non si può immaginare che un investitore in finanza sia disposto a rinunciare a un rendimento maggiore per ottenere un rendimento minore nel caso della sostenibilità se non è pronto a comprendere cosa significa un rendimento minore se non è pronto a comprendere che lui in questo modo collabora e provvederà a far sì che i suoi discendenti e comunque il genere umano in generale abbia possa avere un mondo migliore e questo credo che sia la cosa più importante un'ultima cosa che vorrei dire ho fatto questo discorso in italiano perché la mia lingua sono fiero di essere italiano ovviamente sono fiero di essere europeo ma soprattutto penso che sia bello la diversità perciò la diversità non è soltanto nelle religioni nel colore della pelle nel sesso la diversità anche nelle nostre lingue sono tutte le lingue magnifiche utilizziamo ognuno di noi la nostra lingua e sono certo che molti anche non italiani potranno comprendere quello che ho detto grazie